Ecco in questo bellissimo scenario qui a San Giorgio Morgeto, sabato e domenica cosa avverrà? Avverrà un incontro, allora ci saranno due momenti particolari. Uno di solidarietà? Uno di alta solidarietà, ma più che solidarietà io lo definirei proprio di inclusione, di equità sociale perché i ragazzi dei bikers di San Giorgio Morgeto hanno pensato di creare questo evento che si chiama G-Chop Bikers per sostenere la diversità, non la disabilità e basta. La diversità in fondo è quello che ci contraddistingue, un po' tutti. Hanno pensato questo evento a misura di tutti e per tutti, famiglie, bambini, disabili, quello che il mondo chiama normodotato. È un evento che ha riscaldato i cuori, non solo del paese o della piana, ma come mi è stato riferito dai ragazzi del gruppo, ha riscaldato i cuori di molti gruppi di motociclisti che con un semplice gesto, con un semplice obiettivo, quello di stare insieme, di stare insieme per tutti, ha portato avanti questa iniziativa. Cosa faremo in concreto? Ci sarà l'accoglienza di circa 70 ragazzi con disabilità di ogni tipo. Questa accoglienza verrà gestita dai ragazzi del paese, i ragazzi dell'azione cattolica, il gruppo educatori e il gruppo dei ragazzi che quest'anno ricevuto la cresima. Questa presenza l'hanno voluta loro, ci hanno chiesto di occuparcene perché noi realmente nella nostra comunità, nel nostro paese facciamo questa animazione giovanile. Diciamo che il regalo è reciproco, più che regalare noi a loro, sono loro che regalano noi. Non è un concetto retorico, un concetto pratico, perché l'anno scorso è stato qualcosa che ci ha spiazzato, ci ha riempito non solo il cuore, l'anima, la vita, si vedeva il circuito in questo scenario fantastico e ragazzi che sorridevano anche per la prima volta nella loro vita. Parliamo di ragazzi di 20 anni dove i genitori ci dicevano grazie per i sorrisi dati e sulle due ruote, c'erano i quad, le moto, questi giovani dietro con le moto hanno creato un'iniziativa fuori dal comune. Quindi questo avverrà sabato, mentre nella giornata di domenica cosa ci sarà? Di domenica è previsto un incontro, un vero e proprio motoraduno, dove si incontreranno, insomma verranno motociclisti da ogni dove e conosceranno le nostre bellezze locali.